Adesso la parola a Dale Bocalfa, che è la Presidente dell'Associazione ADA e con cui collabora con la DILA del MISAV. Ieri abbiamo avuto questa bella notizia di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi la ringraziamo perché fa molti sacrifici venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei e collaborando e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la prima parola a lei, Dale Bocalfa. Grazie e buongiorno a voi. Allora, sono Dale Bocalfa, Presidente della Sede Operativa DILA in Algeria. Eppure ho l'Associazione ADA, pure Algeria. che ha la Sede Operativa DILA nella mia città, quindi quello. E vi ringrazio a voi presenti e ringrazio Bruno e tutta la scuola cantina. Quindi, vi leggo adesso il premio delle arti grafiche. Si sente? Ah, ok. Adesso sta bene. Allora, quindi, il premio delle arti grafiche. A quinto posto, Liga Sara Lafinska, con 669 voti. Il quarto posto sarebbe Arim Budin Arts 1, con 697 voti. Il terzo premio a Maurizio Pedace, 1, con 819 voti. Valerian Bressi, opera numero 2, con 1023 voti. E al primo posto, Mirjana Milanovic, opera numero 2, con 1960 voti. a 7 voti. Sarebbe il primo posto per le arti grafiche, complimenti del premio 8.000. Sardeghiamo, grazie a Bruno che è anche imparabile a fare questi video. Per arte grafica, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.